parlare di Foschi Fumaioli perché probabilmente verrà distrutto ma prima di iniziare vi ricordi di scattivare la campagna e lasciare like, commentare e condividere e iniziamo subito allora innanzitutto non è ancora distrutto ma sappiamo questa notizia grazie al trailer che è uscito quello delle nuove skin tipo di Carlino e Carletto lì di quelle robe là perché in quel trailer lì si vede proprio per un secondo barra due secondi Foschi Fumaioli non completamente intatto e oggi ne parleremo un po' perché allora i cubi intanto si sono già spostati in tutti perché quello lì a Brugheri si è appena spostato l'avete visto? questo qua, quello qua sotto si è appena spostato si è appena spostato in questo momento quello dorato non so precisamente dov'è se vi devo dire la verità non lo so ma voglio andare a vedere non Foschi ma voglio andare a vedere i cubi e vi dico anche il perché allora questo qua come vedete è lì ed è quello più vicino a Foschi però voglio vedere dov'è il cubo d'oro non lo vedo in questo eccolo lì è già lì praticamente porca vacca tra poco attiverà quello il cubo con i figli sta andando verso la credente il cubo dorato è vicino a Parco Pacifico chissà cosa succederà andiamo a Foschi perché anzi questo cubo qua perché è quello più vicino anche se secondo me sarà quello d'oro a distruggerla perché probabilmente il cubo o d'oro o qualsiasi cubo arriveranno a Foschi e Fomaioli e cadranno su quella costruzione ci andiamo pure per vederla per una delle ultime volte e vabbè questo qua è il cubo comunque in questi due giorni non sto molto giocando perché sto giocando a FIFA 22 che uscirà anche un video vabbè comunque si stanno sposando tutti alla velocità della luce il cubo d'oro guardate era già lì l'ultima volta era qua ed è già là quindi veramente molto molto veloce a spostarsi ma andiamo a vedere per una delle ultime volte i Foschi Fomaioli perché come potete vedere c'è questo palazzo c'è palazzo sì c'è questa questa costruzione ecco questa qua che nel trailer è distrutta è proprio distrutta quindi o non lo so perché anche nell'evento finale c'era un'esplosione a Foschi e poi alla fine è tutto intatto probabilmente verrà distrutto da un cubo non lo so quale ma probabilmente verrà distrutto da un cubo comunque questa skin qua sbaglio o gli sono tipo usciti dei cubi su tipo sulla gamba non ne avevo visti fa un po' senso però vabbè comunque giusto perché eravamo a tema cubi e Voschi Fomaioli è a tema cubi perché come potete vedere c'è tutto il cubi qua vabbè c'è un altro cubo qua e vi ricordo che questa città qua Foschi Fomaioli dovrebbe essere stata distrutta praticamente dal primo cioè dal capitolo 2 della season 1 cioè season 1 del capitolo 2 appena siamo arrivati su questa mappa su questa mappa del capitolo 2 Foschi Fomaioli nel trailer qui era bucato e usciva tipo del liquido viola mai successo sarà questa la volta buona che verrà distrutto non lo sappiamo comunque allora killiamo questo e il video può finire perché non ho nient'altro da dirvi e domani uscirò ovviamente un altro video solo se lo killo ah lasciate like perché se non lasciate like perdo il fight ok l'avete lasciato bravi 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 comunque io spero che il video vi sia piaciuto se non ti fosse iscritti se non ti fosse iscritti se non ti fosse la campanellina lasciate like commentate se non vi vedete lancio tutto oh porca ecco così non mi potete dire nei commenti ah le finisci le partite mi hanno ucciso niente noi ci vediamo in un prossimo video bella